Presentata a Cagliari in chiusura della campagna elettorale dei 5 Stelle, la lista dei candidati al Comune di Cagliari. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Presentazione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le Comune di Cagliari, un movimento giovane e anche non giovane. Su cosa si basa il vostro programma? Sull'ascolto dei problemi dei cittadini. Noi abbiamo l'ambizione di stare a fianco del cittadino per risolvere i problemi e per questo ci stiamo candidando alle elezioni comunali. Un movimento che parla maschile e femminile perché siete in tante donne. Sì, siamo in tante donne che hanno l'interesse per le persone, ascoltano le persone perché è questo il fondamento principale del Movimento 5 Stelle, quello di ascoltare e di cercare di realizzare o meglio di risolvere quelli che sono i problemi delle persone. Questo è il fondamento principale. Certo, e perché la scelta dei 5 Stelle? Perché noi siamo cittadini attivi, non stiamo con le mani in mano, noi vediamo quelle che sono le criticità e cerchiamo di risolverle. Siamo onesti e andiamo avanti e guardiamo al futuro al 2050. Importante soprattutto il rapporto con la città oppure quello delle infrastrutture come per esempio la parte dedicata alla sanità? Assolutamente, la sanità è uno dei motivi principali perché abbiamo bisogno di una sanità che funzioni e che funzioni su un territorio che è peraltro stato devastato completamente dalla precedente amministrazione comunale. Certo, oltre alla sanità c'è di più perché per esempio anche il mondo della cultura deve avere il suo perché. Assolutamente sì perché senza cultura non v'è futuro. E nello specifico in quella che è la sua forma fisica di cultura, lo spettacolo dal vivo, il sistema museale, tutta la ricchezza che c'è ed è presente in città deve essere valorizzata.